I carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese, coadiuvati dal nucleo carabinieri cinofili di Volpiano, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 66enne residente a Rivarolo con precedenti specifici, denunciando la convivente per la medesima ipotesi di reato. In particolare, i carabinieri della stazione di Rivarolo, a seguito di un predisposto servizio di osservazione e controllo nell'ambito del territorio, hanno preceduto un'accurata perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione dell'uomo, trovando un bilancino di precisione e del denaro contante di cui l'uomo faceva fatica a documentare la provenienza. Convinti che nell'appartamento ci fosse anche la droga, i carabinieri hanno perseguito la ricerca ricorrendo all'intervento di due speciali unità del nucleo carabinieri cinofili per ulteriori verifiche. I sospetti si sono rivelati infatti ben presto fondati. I due animali, non appena entrati nell'alloggio, si sono lanciati immediatamente in direzione di un'intercappedia di nepposta nel soggiorno, a ridosso della caldaia, trovando un barattolo di vetro chiuso ermeticamente, al cui interno c'erano ben 38 grammi di cocaina purissima, di cui 7 grammi già suddivisi in dosi e pronti per essere smerciati. I due cani, Jack e Johnny, rispettivamente di 3-4 anni, non sono affatto nuovi a tali risultati. Tra il 2018 e il 2019 hanno già scoperto oltre 120 kg di sostanza superfacente, tra eroina, cocaina e hashish. Su disposizione della procura di Ivrea, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, provvedimento restrittivo convalidato dall'autorità giudiziaria.